Oggi è una presenza in Umbria dove andrò in giro per una serie di strutture anche in un'area terremotata come quella di Cascia. Il mio giudizio sulle strutture Umbria è ovviamente positivo. La regione Umbria ha fatto molto, è una regione tra quelle vittuose in Italia e tra l'altro è anche una regione molto attiva sul calendario vaccino.